Approvato il piano rifiuti, crisi settore telecomunicazioni a rischio licenziamento Centinaia di lavoratori piemontesi Il Consiglio a sostegno della Polizia Penitenziaria Bentrovati a una nuova edizione di Consiglio News, il formato è privo di immagini e interviste ai politici secondo quanto disposto dalla legge 28 del 2000 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e referendari In apertura l'approvazione da parte dell'Aula del piano rifiuti Approvata maggioranza la delibera del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate Per consentire un iter più spedito dei lavori è stato trovato un accordo con i gruppi di opposizione concretizzato con l'approvazione da parte dell'Assemblea di alcuni emendamenti proposti dall'assessore all'ambiente riguardanti l'innalzamento all'82% entro il 2035 di raccolta differenziata rispetto al precedente dell'80% che rappresentava la percentuale minima per il raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% Un target di produzione di rifiuti urbani da raggiungere entro il 2035 pari a 2 milioni di tonnellate viene migliorato anche il tetto per la riduzione dei rifiuti urbani residui pro capite nonché quello del livello minimo di frazione organica biodegradabile sottoposta a compostaggio locale diminuzione della quantità prevista di rifiuti da destinare alla termovalorizzazione essendo aumentato il livello di raccolta differenziata Approvate anche alcune proposte di modifica delle opposizioni quelle del gruppo Europa Verde di ulteriore precisazione e quelle del gruppo Movimento 5 Stelle per una maggiore attenzione al recupero dei rifiuti Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza si è espressa con i consiglieri dei gruppi Forza Italia e Lega che hanno ribattuto che gli obiettivi fissati dal piano rifiuti sono ambiziosi e vanno anche al di là di quello che chiede l'Europa È stata difesa anche la scelta di costruire una nuova linea di termovalorizzazione che può trasformare i rifiuti in una risorsa Le opposizioni hanno definito il piano rifiuti poco sfidante negli obiettivi Europa Verde e Movimento 5 Stelle hanno criticato in particolare il mancato abbandono della termovalorizzazione Le condizioni lavorative degli agenti di polizia penitenziaria al centro di quattro attini di Rizzo approvati dall'Aula Via libera da parte dell'Assemblea tre ordini del giorno e una mozione a sostegno della polizia penitenziaria collegati al Consiglio regionale aperto dedicato alle condizioni di lavoro all'interno del mondo carcerario svoltosi lo scorso 18 aprile L'ordine del giorno presentato dal gruppo Partito Democratico impegna la giunta regionale a sollecitare il governo a risolvere il problema della mancanza del personale sociosanitario a porre attenzione all'edilizia carceraria e investire in progetti educativi per i detenuti e per la formazione continua degli agenti Anche l'ordine del giorno della Lega sollecita la regione a chiedere al Ministero della Giustizia di potenziare e migliorare i corsi di formazione per gli agenti e chiede all'esecutivo di attivarsi anche attraverso il garante dei detenuti per assicurare loro un idoneo supporto psicologico Sulla stessa linea il documento di Fratelli d'Italia che chiede in collaborazione con le ASL di rafforzare il monitoraggio dello stato di salute psichico dei detenuti e di potenziare il sostegno psicologico agli agenti Inoltre in sinergia con le prefetture e i ministeri competenti intende attivare un monitoraggio psicologico dei detenuti potenziando le REMS con l'aumento dei posti a disposizione per i soggetti particolarmente fragili e pericolosi Approvata anche una mozione sempre di Fratelli d'Italia che impegna la Commissione Sanità a costituire un gruppo di lavoro focalizzato sulle condizioni lavorative di sicurezza degli operatori del sistema carcerario piemontese Crisi nel settore telecomunicazioni Interrogazione del Partito Democratico sui rischi di licenziamenti in Piemonte Come intende agire la Giunta regionale per far fronte alla conclamata crisi industriale del settore delle telecomunicazioni piemontese e come intende tutelare in ogni sede ministeriale un settore che in Piemonte e in particolare in provincia di Torino occupa moltissime persone Questo l'interrogativo che il gruppo PD ha rivolto ai componenti della Giunta In Italia sarebbero a rischio oltre 20.000 posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni e in Piemonte alla vicenda Wind 3 si affianca quella di Vodafone con l'avviata procedura di licenziamento di 1.003 lavoratrici e lavoratori nella nostra regione L'avvertenza a carattere nazionale è puntualizzato in una nota l'assessore regionale al lavoro L'assessorato, pur non coinvolto nell'avvertenza dalle organizzazioni sindacali segue la situazione e la seguirà anche sui tavoli nazionali al fine di salvaguardare sia i livelli occupazionali che l'operatività dell'azienda Il Presidente e alcuni consiglieri regionali hanno incontrato nella pausa dei lavori d'aula due diverse delegazioni per un aggiornamento su due proposte di legge di iniziativa popolare La prima, presentata dall'Associazione Torino Città per le Donne riguarda le regole per promuovere la rappresentanza di genere nelle consultazioni elettorali secondo quanto prevede la legge nazionale 165 del 2004 La seconda proposta promossa da un gruppo di 40 realtà del mondo del sociale e della sanità intende modificare la legge regionale del 2021 sul gioco d'azzardo patologico Sulla parità di genere il Presidente ha spiegato che oltre a quella di iniziativa popolare esiste una proposta di legge formulata da alcuni consiglieri in attesa di essere discussa l'intenzione è quella di arrivare a una trattazione ampia e condivisa da maggioranza e opposizione Per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico ha specificato il Presidente c'è l'impegno di parlarne in riunione dei capigruppo per valutare la calendarizzazione dei lavori affinché la proposta di legge sia esaminata nelle commissioni competenti Viaggio studio a Trieste per un gruppo di studenti vincitori del progetto di storia contemporanea Una quindicina di studenti tra i 16 e i 18 anni provenienti dagli istituti tecnici industriali Fauser di Novara Artom di Canelli e Cavurlanino di Vercelli accompagnati da un consigliere segretario dell'ufficio di presidenza e dalla professoressa Antonella Ferraris dell'Istituto Storico della Resistenza di Alessandria hanno partecipato dal 7 al 9 maggio al viaggio studio di tre giorni sul confine orientale italiano Il viaggio non è soltanto un premio ma è un modo di affrontare la storia da un punto di vista diverso e attraverso strumenti diversi Il viaggio, fase finale dell'annuale progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale ha avuto come meta la città di Trieste la risiera di San Sabba utilizzata dopo l'8 settembre del 1943 dai nazisti come campo di prigionie e di smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia oltre che unico campo di sterminio nazista in territorio italiano il Memoriale di Re di Puglia dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale e la foiba di Basovizza sul confine tra l'Italia e la Slovenia un pozzo minerario usato dalle truppe jugoslave nel 1943 e nel 1945 per l'uccisione di migliaia di italiani sono rimasto molto colpito all'idea che la guerra la seconda guerra mondiale ha annientato ha completamente cancellato dalla storia nella sua frenesia terribile milioni di persone gli esuli erano consapevoli di avere un biglietto di sola andata per l'Italia e comunque non sarebbero più tornati nelle loro terre di origine e si sentivano stranieri a casa loro per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti